Il Festival Armonia Entrando stasera proprio un'atmosfera di armonia veramente, di serenità, di piacevolezza insomma e questo fa veramente piacere perché anno dopo anno questo posto si è veramente trasformato. Abbiamo scommesso sull'idea che la lotta alle mafie si deve fare attraverso la cultura, la bellezza, la musica. Abbiamo girato tutta Italia e ci siamo resi conto che i posti dove di più le mafie si radicano sono posti che non hanno cultura, che non hanno bellezza, dove è difficile portare anche un vento di novità. Ed è per questo che guardando questo luogo dieci anni fa abbiamo sognato un festival. E' il festival che abbiamo immaginato per ricordare la memoria di Bruno Caccia, quel magistrato ucciso a Torino dall'Andrangheta il 26 giugno del 1983. Nel 1983 quando spararono a Bruno Caccia questa cosa non sarebbe stata possibile. Questa cosa che oggi si chiama Cascina Caccia qui, una rete sociale, cittadini organizzati che insieme ai rappresentanti delle istituzioni portano via i patrimoni illeciti, li riscattano, li trasformano in un'altra storia, tutto questo nell'83 non sarebbe stato possibile. Oggi è realtà. Lo slogan di Armonia, l'arte libera il bene, c'è bisogno di un'etica e di un'estetica che si saldino. La cultura, l'arte, la bellezza sono il primo strumento contro le mafie, come ha insegnato a tutti noi Peppino Impostato. Nato nella terra, dei Vespre degli Aranci, Scaccinis e Palermo parlava alla sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che va a far palottare. Aveva un cognome, il complante rispettato, di certo in quelli mondi a me da lui fa colorato. Si sa dove si nasce, ma non come si vuole, se non sei l'ideale, ti porterà il valore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, rimando forte senza aver paura, contatto a cento passi, lungo la tua strada. Grazie a tutti e buonanotte! Buonanotte Cascina Caccia!